Il professore Vanzo che consegna dall'altra il presidente della Proloco, il signor Marco Ennas La targa, una la coppa, l'altra la targa E' robusto, non preoccuparti Con 56 preferenze, raggiunge il secondo posto, rimaniamo nel perimetro comunale, fibra ottica Secondo posto, classificato, fibra ottica, c'è la scala dietro, rischiate di farvi male Ma si dice anche, i DJ dicono sale, sale, ma non fa male Ma si fa male Prego, l'assessore, la signora Vanzo consegna il riconoscimento, il secondo posto raggiunto da fibra ottica Che si è giudicata anche il primo posto per quanto riguarda l'allegoria e il primo posto anche per quanto riguarda il costume Si aggiudica Con 59 voti totalizzati Si aggiudica la 26esima edizione del Carnevale San Gavinese Il popolo Revolution E si aggiudica anche su Norrappoi che poi è il trofeo che viene dato al successivo vincitore E mi pare a questo punto E noi non ce ne andiamo! E noi non ce ne andiamo! E noi non ce ne andiamo! Max, credo a questo punto siamo ormai all'epilogo E a tutta questa gente che poi ha formato una cornice stupenda Che poi è quella che è la sostanza più bella di questo Carnevale Esatto I carri dal quinto all'ottavo si avvicinano a ritirare la targa ricordo Noi a questo punto ne approfittiamo Essendo arrivati all'epilogo di questo evento Da Gianni Algei e Max DJ Con l'augurio che l'evento di oggi sia stato di vostro gradimento Vi chiamo appuntamente alla prossima Sperando di offrirvi sempre più, sempre meglio Soltanto per voi Grazie Ciao a tutti Ricordate le foto di questo evento su www.maxdj.it tra tre giorni Complimenti, grazie a tutti, ciao! È arrivato un rappresentante della scuola materna a ritirare il riconoscimento Ciao! 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 Ciao!